buongiorno amici bentornati al canale oggi piccola recensione di questa minuscola torcia led minuscola ma il costo non è minuscolo diciamo che è rapportato alle proporzioni può essere non è non è troppo economica però vediamo subito le qualità che ha innanzitutto è impermeabile realizzata in alluminio aeronautico molto compatta piccola leggera ma molto molto robusta come potete vedere anche da dal video ha un led potentissimo a quattro tipi di illuminazione più una illuminazione strobo qui abbiamo la presa usb type c per la ricarica e qui sotto c'è il pulsantino che si comanda direttamente da qua questo sportellino è leggermente magnetizzato quindi basta una piccola pressione per l'illuminazione poi se si tiene premuto aumenta l'intensità quando la spegniamo rimane in memoria l'ultima praticamente luminosità selezionata premendo il tasto così veloce si va in una sorta di modalità turbo e vi assicuro che ha un fascio luminoso incredibile illumina davvero una zona vastissima e praticamente notevole proprio purtroppo non ho la possibilità di farvi vedere ma vi assicuro che l'illuminazione è pari a quella di di un faro abbagliante di un'auto la modalità stroboscopica ora non ricordo come ecco fa questa è la modalità strobo sempre con la pressione ecco questa invece è la modalità sos come potete vedere e poi torniamo alla modalità normale quindi per chi necessita di una torcia compatta tra l'altro con un'ottima clip per attaccarla alla giacca e pantaloni insomma questa clip è molto utile quindi dicevo per chi necessita magari in campeggio un outdoor così una torcia che veramente ha un fascio luminoso potente e vasto è altamente consigliata quindi sotto in descrizione come sempre troverete il link per l'acquisto è disponibile in diversi colori io l'ho presa nera perché la trovo più carina comunque c'è anche non so color bronzo color metallo insomma vari colori quindi come vi dicevo in descrizione il link se volete fare l'acquisto e cos'altro dirvi ancora ve la consiglio se necessitate di torce di se fate un hobby oppure anche lavori a cui necessita una notevole illuminazione questo è tutto grazie per la visione alla prossima ciao ciao